Buon pomeriggio e ben ritrovati in diretta con l'informazione di Udinese TV. In apertura ci sono gli esteri perché continua a complicarsi ulteriormente la situazione in Israele. Dopo una nottata di combattimenti tra lo Stato ebraico e Hamas a Gaza continuano i lanci di razzi proprio nella città. Gli attacchi su Gaza continueranno e tutti i comandi si devono preparare ad un conflitto più esteso senza limiti di tempo. A dirlo il capo di Stato Maggiore dell'esercito israeliano Avik Kokhavi confermando l'ordine ai militari di colpire i membri operativi di Hamas e della Jihad islamica a Gaza. Il capo di Stato Maggiore ha spiegato all'esercito e ha detto che l'IDF continuerà ad agire in maniera decisa per ridare sicurezza ai residenti del sud del paese. L'esercito ha anche deciso l'invio di rinforze al confine di Gaza, tra questi la brigata di fanteria Golani e la settima brigata corazzata, oltre ad unità di intelligence e aviazione. Il bilancio ha aggiornato delle vittime a Gaza dopo una giornata di ripetuti attacchi israeliani di 26 morti e 122 feriti, ha reso noto il Ministero della Sanità locale. Tragedie anche in Russia nel primo giorno di lavoro dopo il lungo Ponte di Maggio a Kazan, la capitale del Tata Zarazan. Una giovane di 19 anni si è reso protagonista di una strage entrando nella scuola numero 157 dove si era diplomata 4 anni fa e aprendo il fuoco all'impazzata armato di una mitragliatrice. Pesantissimo il bilancio delle vittime, il governatore dello Stato parla di 7 morti e 16 feriti, alcuni gravissimi, ma le agenzie russe citando fonti di polizia hanno riferito di 11 morti e oltre 30 feriti. Sempre stando alla situazione raccontata dai media locali, l'autore della strage sarebbe uno solo, avrebbe agito secondo la logica del lupo solitario, ma si è riferito anche di un secondo assalitore, prima bloccato al quarto piano dell'edificio e poi neutralizzato, ovvero ucciso dalle forze dell'ordine. Ora rientriamo in Italia e diamo gli aggiornamenti rispetto al processo verso le nuove riaperture perché si è tenuta oggi la riunione presieduta dal premier Mario Draghi a Palazzo Chigi con il capodelegazione della maggioranza e il titolare del Ministero dell'Economia Franco. C'è stata un'intesa di massima sui nuovi contributi a fondo perduto da inserire nel decreto sostegni bis. Si sarebbe optato per un mix tra le varie ipotesi sul tavolo con un meccanismo in due tempi, nuovi ristori subito, automatici, sulla base del fatturato e la possibilità per le imprese interessate, come chiesto in primis dalla Lega, di ricevere un saldo di fine anno, ricalcolando le perdite sulla base dei dati, dei bilanci o delle dichiarazioni dei redditi. In questo modo è stato spiegato, si introduce un meccanismo di perequazione rispetto a quanto già ottenuto. Poi gli altri temi all'ordine del giorno, lo spostamento del coprifuoco e i parametri RT per l'assegnazione dei colori nel nostro paese. Era stato la governatore del Friuli Venezia Giulia Federica appunto su input della conferenza delle regioni a chiedere una modifica al metodo di classificazione. Vedremo poi domani un nuovo confronto proprio tra governo e regioni se ci saranno ulteriori sviluppi. Oggi invece hanno protestato i negozianti che hanno le proprie attività all'interno dei centri commerciali. Saracinesca abbassate in 1300 centri commerciali di tutta Italia per protestare contro le chiusure nel weekend. Una serrata simbolica che per esempio in Friuli ha visto un'alta adesione sia al centro commerciale Città Fiera, sia al Bennett di Pradamano ed è andata proprio lì la nostra Monica Nardina a raccogliere le voci dei negozianti. A partire dalle 11 per diversi minuti anche qui nel centro commerciale di Pradamano, l'adesione da parte di varie realtà è un gesto simbolico ma per voi importante? Sicuramente sì, ci tengo però a precisare che dal mio punto di vista almeno non è una questione di aperture festivi e prefestivi, perché la domenica per me si potrebbe tranquillamente rimanere sempre chiusi. è una questione di diversità di trattamento verso tutte le altre attività che non sono nel centro commerciale. Tutto questo ci sta facendo lavorare molto 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 di meno anche durante la settimana. Tra l'altro fa parte delle attività che hanno potuto tenere aperte festivi e prefestivi trattando articoli per animali. Assolutamente, io mi ritengo una di quelle attività fortunate che comunque sono potute rimanere aperte, ma credetemi che il lavoro è stato molto molto di meno per tutto il periodo di lockdown, soprattutto in zona rossa. E ovviamente nei weekend, io la domenica tengo chiuso, il sabato tengo aperto, ma essendo tutti gli altri negozi chiusi anche per me il lavoro è calato in maniera drastica. Anche lei ha aderito a questa iniziativa, cosa rappresenta per lei? Ma guarda, speriamo in una rinascita, a non rincominciare. Cioè per noi tenere i sabati e le domeniche chiuse effettivamente è stato molto pesante, ma anche perché non è solo sabato e domenica, sono anche prefestivi. E qua vuol dire tante volte lavorare tre giorni su sette, per cui questo a noi ha penalizzato veramente tanto, per non parlare delle chiusure e dei vari lockdown che ci hanno veramente tagliato le gambe. Adesso si aspetta comunque la risposta da parte del governo sulla riapertura anche in questi giorni di festivi e prefestivi? Beh sarebbe anche ora, sì ormai insomma la gente, si spera che dopo tutto questo tempo abbia imparato a comportarsi, per cui sì, ci aspettiamo una risposta positiva. Lei è commesso di un negozio che ha aderito all'iniziativa di oggi, però rispetto all'apertura nei festivi ha un parere invece contrario. Sì certo, buongiorno, appartengo a una delle catene e grandi negozi che ricoprono insomma questo centro commerciale, sono un commesso da 11 anni presso questo centro commerciale e sono assolutamente contrario alla riapertura delle domeniche e dei festivi per queste grandi attività, perché comunque la gente vedo che in questo periodo di riapertura post lockdown è più concentrata, spende meglio, si riesce anche noi stessi a lavorare meglio e abbiamo anche del tempo libero come tutti quanti hanno e che secondo me dovrebbe essere una cosa insomma molto giusta per chiunque, per tutte le attività, in più benvenga adesso che arriva la bella stagione, che la gente possa stare all'aperto piuttosto che rinchiudersi dentro i centri commerciali. Comunque invece le altre varie attività lamentano invece difficoltà economiche conseguenti invece a queste chiusure. Le chiusure, ripeto, del sabato sì, volentieri, perché comunque da quando sono bambino vedo che il sabato è la giornata delle spese di tutta la famiglia di qualsiasi tipo, di chi ha un po' di tempo libero. Però, ripeto, domeniche e festività dovrebbero essere chiuse per far godere, per far riavvicinare le famiglie che erano una volta. E sono stati 37 su 45 i negozi che hanno abbassato simbolicamente le loro saracinesche e più anche l'ipermercato. Ora andiamo a dare l'aggiornamento sui numeri relativi alla Covid-Friuli Venezia Giulia, sono usciti poco fa i dati di oggi, sono 70 i contagi giornalieri a fronte di 5.946 tamponi effettuati per un rapporto dell'1,17%. Tornano a scendere le terapie intensive, 20, 2 in meno, 136 ricoveri negli altri reparti, anche in questo caso netto calo di 11 unità. Rimangono in isolamento 6.082 cittadini, 2 le vittime che portano il bilancio totale a 3.746. E a fronte di questo netto miglioramento del contagio c'è anche l'aggiornamento per quanto riguarda l'unità di medicina Covid dell'ospedale di San Daniele del Friuli, che domani chiuderà, come ha spiegato l'assessore Riccardi. Gli accoglimenti sono cessati lo scorso 4 maggio e nel corso di questa settimana i degenti sono stati dimessi in quanto guariti o trasferiti verso le residenze protette per proseguire con i percorsi riabilitativi. In relazione a ciò, il secondo piano della struttura sarà sanificato e in esso verranno compiute una serie di interventi manutentivi. Da giovedì 13 maggio, al fine di dare una risposta al fabbisogno dei posti letto per i ricoveri ordinari, la medicina occuperà temporaneamente il terzo piano, usato lo scorso novembre per la logistica dei percorsi Covid, attivando ulteriori 18 posti letto internistici puliti. Il crono programma di ripresa dell'attività per la sede san danielese prevede inoltre la riattivazione della medicina d'urgenza il 17 maggio con 4 posti letto e l'espansione al quarto piano della dotazione di posti da 10 a 20 con assistenza H24 per il dipartimento chirurgico. Con questo assetto la struttura di San Daniele potrà tornare a garantire come in passato la risposta alle urgenze chirurgiche e alla traumatologia. La previsione di avere operativi per il 14 giugno complessivamente 60 posti letto internistici di primo e secondo piano, 30 dedicate al dipartimento chirurgico e 8 di medicina d'urgenza. Infine rimangono invariate le attività della pediatria e dell'ostetricia preservate anche durante il periodo di massima attività Covid della sede. Sul fronte vaccinazione invece, agende aperte da oggi per prenotare il vaccino anti-Covid a favore degli operatori ed educatori che presteranno servizio nei centri estivi in partenza dal mese di giugno. Nonché per colore i quali, a vario titolo, avranno accesso alle strutture e collaboreranno con gli enti gestori nell'organizzazione e nella conduzione delle attività per i minori. A comunicarlo l'assessore all'istruzione Rosalind, vice governatore Riccardi. La vaccinazione andrà prenotata al CUP online nella categoria personale scolastico e sarà necessario anche compilare un'autocertificazione di atto notorio scaricabile dal sito della Regione. Servono risposte veloci, hanno sottolineato Rosalind Riccardi, perché l'estate è alle porte e il tempo è cruciale a partire dalla pianificazione dei vaccini sia per gli educatori sia per coloro che accompagneranno i minori nei centri e nelle attività estive. Sempre sul fronte sanitario, stamattina a Palmanova invece, si è presentato un nuovo ambulatorio, un passo importante che deve fare da slancio affinché anche nella nostra Regione si è attivato un centro per la cura dei disturbi alimentari. Allora andiamo a vedere che cosa è successo e quali saranno appunto le opportunità offerte da questo nuovo ambulatorio. La pandemia ha evidenziato un fenomeno che esiste da tempo e sul quale noi continuiamo a immaginare la risposta ai temi di salute soltanto con le strutture ospedaliere, ed è sbagliato. Vedere questa iniziativa che parte rende giusto un sistema di salute, equilibrato, sposta la cultura ospedaliere anche all'assistenza territoriale. C'è un tassello che manca, un centro di riferimento che al di là del percorso ambulatoriale bisogna costituire un centro perché siamo dipendenti da altre Regioni. Questo è il modello al quale noi dobbiamo guardare, avendo il coraggio di fare delle scelte che potrebbero essere delle scelte considerate limitate nel breve, ma sicuramente nel medio e lungo termine, sono la strada giusta per quella trasformazione del modello che diventa indispensabile e risponde alla salute e non solo alla sanità. La cronaca locale è ancora un furto da Sportler a Tavagnac con nemmeno una settimana di distanza dopo il colpo dei 6 maggio scorso verso le 2 di stanotte è scattato l'allarme che ha fatto intervenire sul posto la vigilanza privata Mondial Polla assieme ai carabinieri. I malviventi hanno sfondato una vetrata con un'ascia lasciata poi sul posto, dopodiché si sono introdotti all'interno e hanno rubato un gran numero di biciclette e altri oggetti in esposizione per un danno che seppur in corso di quantificazione ammonta a diverse migliaia di euro. Mattinata difficile tra Basaldella e Villa Primavera in comune di Campoformino per una serie di incidenti, il più grave si è verificato verso le 9 in piazza Basaldella dove un pedone è stato investito da un auto mentre stava attraversando sulle strisce pedonali, non sono queste le immagini, nei pressi della farmacia, lungo luogo già teatro di diversi incidenti simili sul posto per rilievi è intervenuta la polizia locale. Oltre al personale sanitario, traffico bloccato quindi per consentire i soccorsi e poi un altro tamponamento avvenuto in contemporanea Villa Primavera nei pressi del ponte che collega con Pasiandi Prato. Le immagini invece, le avete viste, sono di un capriolo che poco prima delle 8 di oggi è stato soccorso dai vigili del fuoco in via Cividina Martignacco per soccorrere l'animale, è rimasto intrappolato all'interno di un giardino di un'abitazione. I vigili del fuoco sono riusciti a bloccare l'animale dopo avergli coperto gli occhi per evitare di spaventarlo e lo hanno trasportato all'esterno della proprietà recintata. Dopo aver consultato la guardia forestale, i pompieri lo hanno liberato ai bordi di un bosco che si trova nei pressi dell'abitazione. Serie di controlli da parte della Capitaneria di Port della Guardia Costiera con l'operazione nazionale denominata Onda Blu, molteplici le attività soprattutto per contrastare il pericoloso scarico di rifiuti tra Grado, Aquileia, Fiumicello, Villa Vicentina e Lignano Sabbiadoro sono intervenuti il personale dell'ufficio circondariale marittimo che ha individuato diverse situazioni di irregolarità. La prima ha condotto ad una segnalazione all'autorità giudiziaria dei responsabili di un cantiere navale e al sequestro di un'area di 3.200 metri quadri a loro disposizione e dei relativi rifiuti in essa depositati. Nel secondo caso, segnalata sempre alla procura di Udine, un'impresa di trasporti che operava nella zona industriale di Aquileia con sequestro conseguente di un'area di circa 120 metri quadri. Chiudiamo con una notizia che arriva da Trieste. Verso le 23.30 la Polizia di Stato ha sanzionato amministrativamente per aver violato le norme anti-Covid una coppia in via alle cave. L'uomo si era sentito male a causa dell'assunzione eccessiva di bevande alcoliche e la donna aveva richiesto l'intervento dei sanitari del 118. Sul posto una volante che li ha identificati e sanzionati. L'uomo, un triestino di 50 anni, ha ingiuriato sia contro i sanitari sia contro gli agenti ed è stato sanzionato pure per ubriachezza. Sono state poi multate perché in ottemperante le normative anti-Covid due colombiane fermate e identificate da una volante in via Carducci dopo le ore 2 della scorsa notte. Ci fermiamo qui. L'informazione su Odinese TV tornerà live alle 19.00. Vi ricordiamo poi gli appuntamenti anche per la serata. A partire dalle 19.45, studio e stadio per seguire la sfida tra Napoli e Odinese con Massimo Campazzo e i suoi ospiti e i collegamenti dallo stadio Diego Armando Maradona. Grazie per averci seguito. Buon pomeriggio. Grazie. Grazie a tutti.